VANGELO SECONDO MARCO Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio Conforme a quanto sta scritto in Isaia profeta Ecco io mando il mio messaggero davanti a te, il quale preparerà la tua via Voce di uno che grida nel deserto, appianate la via del Signore, rendete dritti i suoi sentieri Apparve Giovanni il battezzatore nel deserto, predicando un battesimo di penitenza per la remissione dei peccati Andavano da lui tutti gli abitanti della regione della Giudea e di Gerusalemme E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, mentre confessavano i loro peccati Giovanni aveva un vestito di peli di cammello, una cintura di cuoio intorno ai fianchi E si nutriva di locuste e miele selvatico Predicava dicendo Dopo di me viene uno che è più forte di me A cui io non sono degno di piegarmi a sciogliere i legacci dei suoi calzari Io vi ho battezzato con acqua Ma egli vi battezzerà con Spirito Santo Ora, in quei giorni, Gesù giunse da Nazare di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano Quindi, mentre risaliva dall'acqua, vide i cieli che si squarciavano E lo Spirito che discendeva su di lui come colomba E una voce venne dai cieli Tu sei il figlio mio di letto In te mi sono compiaciuto Successivamente lo Spirito lo spinse nel deserto Egli rimase nel deserto 40 giorni, tentato da Satana Era con le fiere e gli angeli lo servivano Dopo che Giovanni fu arrestato Gesù venne in Galilea predicando il Vangelo di Dio Diceva Il tempo è compiuto E il regno di Dio è giunto Convertitevi e credete al Vangelo Passando lungo il mare di Galilea Vide Simone e Andrea, fratello di Simone Che gettavano le reti in mare Infatti, erano pescatori Disse loro Gesù Seguitemi E vi farò diventare pescatori di uomini Prontamente essi, lasciate le reti, lo seguirono Procedendo poco più oltre Vide Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello Che stavano anch'essi sulla barca rassettando le reti E subito li chiamò Essi, lasciato il loro padre Zebedeo con gli operai sulla barca Gli andarono appresso Vanno a Cafarnao Quindi egli, entrato di sabato nella sinagoga Si mise a insegnare E si stupivano del suo insegnamento Già che li ammaestrava come uno che ha autorità E non come gli scrivi Vi era nella loro sinagoga Un uomo posseduto da uno spirito immondo Il quale si mise a gridare Che c'è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio Ma Gesù lo sgridò dicendogli Taci ed esci da lui Allora lo spirito impuro lo scosse violentemente Poi mandò un grande grido e uscì da lui Tutti furono presi da spavento Tanto che si chiedevano tra loro Che è mai questo? Una dottrina nuova data con autorità Comanda persino agli spiriti impuri E questi gli ubbidiscono Quindi la sua fama si sparse ovunque Per tutta la regione della Galilea Usciti dalla sinagoga Vennero nella casa di Simone e Andrea Insieme con Giacomo e Giovanni Ora la suocera di Simone Giaceva a letto con la febbre E subito gli parlarono di lei Avvicinatosi le prese la mano E la fece alzare La febbre la lasciò Ed ella si mise a servirli Venuta la sera Quando il sole fu tramontato Gli conducevano ogni sorta Di malati e di indemoniati Tutta la città si era raccolta Davanti alla porta Egli guarì molti malati Di varie malattie E scacciò molti demoni Ma non permetteva che i demoni parlassero Perché lo conoscevano bene La mattina dopo molto presto Alzato si uscì E si ritirò in un luogo solitario Ove rimase a pregare Allora Simone con i suoi compagni Si mise a cercarlo E avendolo trovato gli dicono Tutti ti cercano Dice loro Andiamo altrove Nei villaggi vicini Per predicare anche là Per questo infatti sono uscito E se ne andò predicando Nelle loro sinagoge Per tutta la Galilea E scacciando i demoni Gli si avvicina un lebroso E lo supplica in ginocchio Dicendogli Se vuoi puoi mondarmi Mosso sia a compassione Gesù stese la mano Lo toccò E gli disse Sì lo voglio Sì mondato Subito la lebra si allontanò da lui E fu mondato Quindi con tono severo Lo mandò via Dicendogli Bada di non dir niente a nessuno Piuttosto va a mostrarti al sacerdote E offri in testimonianza per essi Quanto prescritto da Mosè Per la tua purificazione Quegli però allontanatosi di lì Incominciò a proclamare insistentemente E a divulgare il fatto Sicché Gesù non poteva più entrare Apertamente in una città Ma se ne restava fuori In luoghi solitari Tuttavia La gente accorreva a lui da ogni parte